salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente è arrivato il giorno di parlare di lui mgx bugs 16 pro questo drone che costa attualmente intorno ai 215 euro e vi assicuro che un prezzo incredibile vi lascio il link in descrizione perché secondo me è attualmente il miglior drone low cost che c'è sul mercato ovviamente il migliore low cost stando poco sopra i 200 euro poi ovviamente se si sale più di prezzo ci sono altri low cost e tipo i vari absanzino che sono ancora migliori però si sale ancora di prezzo ma arrivando intorno a questa cifra di 215 euro come tetto massimo ragazzi è davvero un drone incredibile qualche video fa ve l'ho portato sul canale come unboxing e come diciamo mie considerazioni sul perché è il miglior drone rispetto ai vari f11 4k pro e vari sg 906 908 e via dicendo quindi andate a vedere il video ve lo lascio qua sopra nelle schede perché lì vi spiego cosa di più rispetto a loro lui ma oggi ragazzi siamo qua per vederlo in azione perché lì vi ho detto che attualmente è il miglior drone secondo me sul mercato però non l'ho fatto vedere in azione quindi oggi è arrivato il momento di farlo vedere in azione quindi lo proveremo nelle varie situazioni classiche in cui provo tutti i droni che porto qua sul canale quindi proveremo l'overing proveremo come si comporta in volo proveremo un piccolo range test perché comunque questi droni come sapete non hanno dei grandi range test e quindi se arrivano a 300 400 metri e già tanta roba sto parlando come ritorno video è sempre come ritorno video non come controllo che ovviamente è molto maggiore ma ritorno video intorno ai 300 400 metri di solito si perde il segnale poi potrebbe essere anche meno se andate in una zona con tantissime interferenze quindi lo proveremo poi nel return to home quindi proveremo le cose classiche che provo normalmente per tutti i droni che porto qui sul canale ma poi ovviamente proveremo la cosa più importante cioè quello che è il suo punto di forza rispetto a tutti gli altri droni low cost cioè la videocamera secondo me la videocamera e la qualità video di questo drone hanno davvero un qualcosina in più anche rispetto all'f11 4k pro quindi ragazzi direi di non perdere il tempo e iniziamo il test di questo mjx bug 16 pro allora il drone vi arriva in questa valigetta è davvero utile che protegge benissimo il drone anzi c'è anche tanto spazio anche per altre piccole cose quindi vado a tirare fuori il radiocomando e a mettere la valigetta da parte allora vado a aprire il drone che come ho detto anche nel video della presentazione all'apertura dei bracci è abbastanza particolare in stile paro tanafi e le dimensioni del drone ragazzi sono queste devo dire che le dimensioni sono abbastanza importanti è un drone come ho detto anche nel video scorso che per essere pilotato ha bisogno della registrazione dell'assicurazione e del patentino online perché comunque un drone che pesa più di 500 grammi per prima cosa andiamo a preparare il radiocomando e il telefono accendiamo il radiocomando andiamo ad accendere il drone ok avete sentito i bip quindi il drone e il radiocomando in questo momento si sono connessi una lata quindi due dispositivi hanno trovato una comunicazione a questo punto entriamo come si fa di consenso con questi droni lo costa nelle impostazioni del nostro telefono quindi nelle impostazioni del wifi andiamo a selezionare in questo caso l'ha già rilevato drone 4g 300 bb perfetto a questo punto non ci resta che andare a aprire la nostra applicazione che si chiama m rsi però questa applicazione disponibile ovviamente sia per ios che per android in questo caso useremo quella per ios a questo punto interfaccia e questa clicchiamo su start facciamo avanti qui ok ci spiega l'applicazione perfetto vedete che il drone già sta inquadrando il landing perché comunque il telefono si è già connesso alla rete wifi creata dal drone mi raccomando lo dico in tutti i video il ritorno video per quanto riguarda il video nello smartphone è in sulla rete wifi 5g che non vuol dire 5g della rete telefonica quindi tutti i telefoni a meno che non siano telefoni di dieci anni fa supportano il wifi 5g da non confondere con la rete telefonica 5g allora a quel punto il telefono deve essere un telefono di ultimissima generazione ma per quanto riguarda i droni si parla sempre di rete wifi lo specifico perché tanti mi dicono ma è un telefono di 4 5 anni è compatibile con il 5g sì ragazzi è compatibile a meno che non sia un telefono vecchissimo super economico cioè sono ragazzi qualsiasi telefono abbastanza recente anche non costosissimo comunque supporta il wifi 5g allora a differenza di tutti gli altri droni low cost bisogna fare la calibrazione della bussola bisogna farla per forza vedete che in alto abbiamo la barra rossa mentre tutti i droni low cost che ho portato qua sul canale si poteva fare ma non era obbligatorio farla mentre lui ci obbliga a farla ed è una cosa secondo me intelligente perché con i droni low cost ragazzi è sempre meglio fare la calibrazione della bussola quando si va a volare direttamente sul posto e questa è una cosa che rende il drone con un comportamento migliore in volo perché questo perché comunque il comparto tecnico non è quello di un dj ai dj ai ci dà la possibilità anche di non farlo sempre lui vola sempre bene e non ha quel problema mentre i droni low cost e secondo me è sempre sempre meglio fare la calibrazione della bussola sul posto in cui si va a volare per fare la calibrazione davvero semplice possiamo tirare gli stick verso l'esterno e a questo punto il led ci aiuterà nella calibrazione anche se con questa luce ragazzi si vede poco comunque la calibrazione lui ve la accetta facendo tre giri per ogni diciamo rotazione che dobbiamo fare quindi faremo tre giri in questo modo anche quattro state nel sicuro fate quattro giri in questo modo lui ha già calibrato in questa posizione adesso ne fate quattro in questa posizione perfetto adesso ragazzi vedete che led anche se vedete poco perché comunque c'è un sole incredibile il led adesso è verde quindi questo vuol dire che la calibrazione avvenuta con successo un'altra cosa che volevo far vedere è l'applicazione applicazione semplicissima abbiamo non tante cose ma tutte quelle che ci servono le fa bene e tutto quello che ci serve è in maniera super comoda e in pratica in alto l'ingranaggetto che ci dà delle possibilità di regolazioni vedete massimo altitudine del volo potete andare a regolare o non attivare niente quindi andrà all'altezza massima stessa cosa per la distanza abbiamo anche il return to home ecco qua così la rth la mettete 50 metri nel caso non sia già impostato a 50 metri queste sono le cose principali da andare a regolare poi c'è da calibrare anche il giroscopio ma quello bisogna farlo a casa su un piano lo dico sempre in tutti i video in cui porto questi e dove lo costa che hanno il giroscopio da calibrare quindi va messo il drone su un piano quindi un tavolo un pavimento e andare a cliccare le opzioni che abbiamo all'interno del menu fatelo a casa una volta ogni tanto non è che dovete farlo sempre questo mentre la calibrazione della bussola sempre quindi detto questo le impostazioni bene o male ragazzi sono queste qua sotto invece al pulsante rosso abbiamo le impostazioni della videocamera quindi le regolazioni della videocamera e la risoluzione che vogliamo attivare nella videocamera però a questo punto ragazzi direi che è arrivato il momento di decollare e vedere questo mjx bug 16 pro in azione quindi ragazzi decolliamo quindi per decollare abbiamo il tasto qua dietro al radiocomando che ci permette sia di decollare che atterrare qua abbiamo il return to home abbiamo per scattare foto e far partire i video qua abbiamo la possibilità di andare a aumentare o diminuire la velocità perché comunque abbiamo un regolatore di velocità e poi abbiamo la possibilità di accendere il led come ho fatto vedere anche nel video della presentazione per accendere il led sotto al drone per gli atterraggi quando siamo al buio ovviamente oggi è tutto strane che buio e qua abbiamo una rotella per la regolazione del gimbal mentre poi abbiamo una rotella che è finta e qua abbiamo l'interruttore per attivare disattivare gps appunto se dovessimo volare all'interno di una zona in cui un capannone un casa anche se in casa magari no con uno di questo tipo però in zona in cui il gps non prende lo andiamo a disattivare altrimenti non ci dà la possibilità di decollare quindi adesso è arrivato il momento però di decollare ok perfetto il drone adesso è lì in overing guardate l'overing ragazzi è spettacolare un overing incredibile abbiamo anche l'optical flow come ho già detto anche nel video della presentazione quindi optical flow è tutto quello che è il comparto tecnico solito dei droni quindi bussola giroscopio e via dicendo allora detto questo potremmo comunque iniziare con un po di volo libero giusto per capire sia la videocamera che il comportamento del drone il drone ragazzi è un drone che vola benissimo è vola davvero bene ve lo sentite in mano proprio come se fosse un drone che avete già utilizzato un sacco di volte è davvero davvero ottimo quindi proviamo allontanarci un attimo saliamo anche di quota anche le prestazioni non sono male nel senso che vola se volete delicatamente se invece volete spingete e lui viaggia e direi che viaggia anche tanto quindi è un drone che sicuramente sicuro anche se io droni di queste dimensioni magari non li consiglio a chi non ha mai utilizzato un drone è meglio passare prima qualcosa di un po più piccolino e poi passare a droni di queste dimensioni allora volevo farvi vedere la videocamera quindi il gima che comunque si muove in maniera abbastanza fluida per essere un drone low cost ovviamente i doni low cost hanno questi gimbal a basso costo appunto e il movimento quando volete fare scendere e salire la videocamera di sotto è abbastanza scattoso questo qua sicuramente è uno di quelli che la migliore di tutti tra i droni low cost che ho provato ovviamente anche qua si ha degli scatti soprattutto nel ritorno video si vede magari che arriva un po dopo l'immagine però è sicuramente un qualcosa che gli altri droni fanno sicuramente peggio se poi parliamo dei vari sg che hanno l'interno di due pulsantini quello sicuramente non è una cosa diciamo pratica che rende comunque il movimento fluido però anche gli altri droni che hanno una rotellina ovviamente economici non hanno una fluidità e qua ragazzi invece abbiamo una fluidità direi abbastanza buona quello che state vedendo ragazzi è il video registrato dal drone e devo dire che secondo me ditemi la vostra nei commenti ma secondo me è un drone che davvero davvero al suo perché adesso ragazzi salgo di quota ovviamente il ritorno video rimane scattoso come tutti i droni lo costano questo ritorno video diciamo non così in tempo reale anzi spesso ha dei laghi incredibili ma questo è normale volevo scattare una foto quindi vado a interrompere il video e volevo scattare una foto giusto per farvi vedere anche il comparto foto ok una fatta ma ero contro sole mi giro di qua così non sono contro sole perfetto adesso mi giro anche un po di qua ne faccio una anche di qua ovviamente la location ragazzi è quella che è sono solo campi agricoli però il senso di tutto penso si capisca lo stesso rifacciamo far partire la registrazione video perfetto e andiamo allora ok a questo punto volevo farvi vedere il follow me che è una funzione che questo drone ha ovviamente non segue il soggetto ma segue il radiocomando quindi vado a cliccare il tastino qua sopra all'atterraggio automatico da cliccare il simbolo del follow me gli dico che voglio attivarlo a questo punto abbiamo attivato il follow me vediamo se il drone mi segue perfetto vedete che lui arriva ovviamente segue il radiocomando è però vedete che se mi fermo lui si ferma se gli vado incontro dovrebbe andare indietro vediamo se vedete che va indietro è ok quindi è un follow me che secondo me funziona bene ovviamente segue il radiocomando non segue il soggetto quindi la telecamera non tiene inquadrato il soggetto ma tiene inquadrato il soggetto se l'avete inquadrato che siete a una distanza ad un'altezza che vi tenga sempre inquadrati adesso volevo attivare la funzione circale cioè il drone gira intorno a un soggetto o a un punto interesse ovviamente anche qua non seleziona il soggetto ma lui inizia a fare un raggio intorno al punto in cui si trova quindi parte da dove è inizia a girare in tondo ok per attivare la funzione circale è facile basta cliccare sempre il tastino quello del follow me cliccare la funzione qua in mezzo e dagli il consenso a partire e lui inizierà a fare diciamo un cerchio dalla posizione in cui si trova quindi esattamente da dove è lui parte a fare un cerchio quindi non è così semplice da utilizzare senza che bisogna pensare bene a dove si posiziona il drone per farlo girare intorno a un punto di interesse adesso questo è l'impostazione come metri di default che ha un diametro di 5 metri però si può aumentare entrando nelle impostazioni ma bisogna farlo mentre il drone non è in volo e questo diciamo è un limite che non ho ben capito perché comunque l'impostazione del diametro del cerchio ha impostato prima e questo mi sembra un po' una cagata però il cerchio lo fa bene mettiamola così però c'è questo limite che non condivido infatti vedete che si vado a cliccare sull'ingranaggio non mi fa accedere alle impostazioni e mi dice che ovviamente il drone è in volo quindi non si può andare a modificare niente quindi adesso voglio salire di quota e adesso volevo allontanarmi un po' visto che poi abbiamo anche tanti satelliti e vediamo come si comporta a livello di range a quanti metri riusciamo ad arrivare anche se faccio veramente fatica a leggere il display quindi faccio davvero fatica a capire a che distanza sono si vede meglio i dati nel controller che nel telefono in questo momento dal riflesso che c'è che è veramente molto molto forte allora siamo alla distanza di 300 metri diciamo che è meglio tornare perché siamo già al limite infatti già spia rossa in alto quindi vado ad attivare il rettune to home il drone è arrivato e qua sopra di me adesso vediamo come si comporta nella precisione del rettune to home perché comunque non ho più il ritorno video è il il drone qua si è sconnesso e il ritorno video se ne è andato quindi vediamo adesso ok adesso è ritornato anche ritorno video vado ad abbassare la telecamera così vediamo come vede il landing ok sta scendendo scende davvero piano e scende davvero davvero piano vediamo non è male secondo me secondo me non è niente niente male dovrebbe avvicinarsi al landing vediamo vediamo sta arrivando direi che non è male non è male vediamo ok scende pianissimo scende davvero piano vediamo lo faccio atterrare nell'erba così vediamo la distanza ok ha tritato un po' d'erba niente di male e ragazzi l'ho lasciato atterrare apposta perché volevo vedere veramente quanto era vicino perché si capiva che era molto vicino e devo dire niente male guardate praticamente se faceva 20 centimetri più in là atterrava sul landing quindi davvero preciso nel rettunet uomo una cosa che vuole farvi vedere è la batteria ha ancora tre led di 4 ne ha ancora tre magari non sono precisissimi però secondo me a livello di batteria tanta roba devo dire che secondo me si comporta davvero bene batteria viene dato per 28 minuti e secondo me se non ne fa 28 comunque a 25 ci arriva tranquillamente l'ho già visto anche nelle altre prove che ho fatto come batteria secondo me davvero niente male adesso lo spengo e tiriamo le conclusioni allora ragazzi quali sono le conclusioni di questo mjx bug 16 pro che è un drone davvero incredibile a questo prezzo perché fino a solo un annetto fa era impensabile avere un drone con queste caratteristiche a 215 euro è davvero una cosa impensabile adesso invece abbiamo questi droni che fanno cose davvero incredibili a prezzi davvero molto molto abbordabili lui lo ritengo il migliore fra tutti per quanto riguarda soprattutto quello che è la qualità video perché comunque ha un ghimbal che secondo me è il migliore fra i droni low cost e anche proprio il 4k in 4k con un bitrate davvero niente male perché come vi ho detto nel video in cui l'ho presentato a un bitrate di 50 megabit per secondo quindi una definizione video davvero niente male per un drone low cost e avete visto come si comporta bene in volo e ve lo assicuro è piacevolissimo da pilotare sia per quanto riguarda il radiocomando come molle del radiocomando come corsa degli stick è davvero un drone che ci sentiamo subito a nostro agio a pilotarlo poi avete visto la sicurezza in volo per quanto riguarda l'rth a circa 400 metri come io avevo detto poi già inizio video quello che è il ritorno video sparisce o si blocca e qua sono in una zona con poche interferenze ma comunque il limite massimo è un po quello al massimo potete averne meno cioè quindi meno metri ma di più è difficile anche perché comunque con un drone low cost e non ha senso andare tanto lontano tolto il discorso comunque di quello che è la regolamentazione dalle distanze date a livello di legge però ragazzi avete visto che a lui a quel punto non sono bene riuscito a capire se quando si è disconnesso ha attivato l'rth da solo l'rth è partito quando l'ho schiacciato io nel radiocomando perché comunque non vedevo niente nel display del telefono perché c'è una luce incredibile oggi quindi non si vedeva niente e non ho ben capito se l'ho attivato io se si era attivato da solo quando si è disconnesso per quanto riguarda il ritorno video comunque sta di fatto che o per una cosa o per l'altra l'rth è entrato in funzione ed è ritornato ragazzi avete visto a pochi centimetri dal landing quindi direi una cosa più che ottima per un drone low cost poi abbiamo visto anche il follow me comunque un follow me che lo fa bene ovviamente segue il radiocomando non segue il soggetto quindi la telecamera non tiene inquadrato per forza soggetto voi potreste puntare la videocamera che inquadra l'erba e comunque lui vi segue perché segui radiocomando quindi dovete valutare bene l'inquadratura che dovete fare stare a determinata distanza da essere sempre inquadrati però seguendo radiocomando lui vi segue sempre avete visto anche andagli incontro lui è tranquillamente andato indietro ha messo la retromarcia è andato tranquillamente indietro quindi una cosa che fa bene ve l'ho detto non fa tante cose non ha mille cose nell'applicazione ma quelle che ha secondo me le fa bene poi abbiamo visto anche la funzione circa questo girare intorno a un punto di interesse quindi questa funzione che lui fa dalla posizione in cui si trova quindi supponiamo che lui si trovi qua attivando la funzione circa lui inizia a girare e fare un cerchio da questa posizione di default l'impostazione impostata a cinque metri di diametro del cerchio si può andare a modificare aumentando comunque il diametro ma bisogna farlo prima di decolare io non l'avevo regolate infatti ho regolato solo il retuntuomo non ho regolato quello quindi lui di default la fa di cinque metri se noi nelle impostazioni andiamo a modificarla ovviamente poi sarà modificata anche la volta dopo non solo in questa possiamo mettere più metri quindi farà un diametro maggiore però una cosa che non mi piace tanto è il fatto che questa regolazione bisogna farla prima di decollare quando il drone è in volo non è più modificabile questo è un peccato perché uno magari in una determinata situazione la voleva con meno metri di diametro o in una situazione ancora diversa voleva avere più metri di diametro però va beh accontentiamoci questi droni lo costa ovviamente qualche limite o qualche difettuccio ce l'hanno però non sono queste ovviamente le cose che fanno decidere se prendere questo drone o un altro drone cioè sono ben altre le cose da valutare un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo è la batteria dura davvero davvero tanto secondo me a 25 minuti ci si arriva ed è un'altra cosa impensabile fino a poco tempo fa avere un drone lo costo con queste caratteristiche con una batteria che durasse 25 minuti un'altra cosa davvero fantastica poi il radiocomando come vi ho detto già inizio video è ben fatto si comporta bene inizio video vi ho dimenticato di dirvi che per armare i motori dobbiamo prima cliccare questo tastino rosso che accende i motori e poi clicchiamo il tasto di decollo mentre io ho detto che questo era per decollare si è vero è per decollare ma per armare i motori dobbiamo prima cliccare questo rosso e me l'ho dimenticato a inizio video quindi questo mjx bug 16 pro è approvato da un nerd e mezzo assolutamente sì drone super approvato se volete un drone lo costa non volete spendere cifre incredibile sicuramente un drone che fa per voi non lo consiglio come non consiglio droni di queste dimensioni a chi non ha mai utilizzato un drone in vita sua perché secondo me è sempre meglio iniziare da qualcosa un po più piccolo ma è sicuramente un drone sicuro che vola bene e qualità video secondo me davvero davvero incredibile per questa fascia di prezzo quindi ragazzi se questo video in cui ho portato il test e la prova di volo del mjx bug 16 pro vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler anche di questo drone tante cose arrivano lì voli in fpv stampe 3d sempre se vi va iscrivetevi al mio canale tengo offerte per sostenere questo canale per avere gli sconti anche per questo drone e trovare le offerte migliori riguardanti appunto anche questo drone ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao ciao